buongiorno e benvenuti a scenari economici oggi brevemente vi parliamo di cina pare che la fornero sia arrivata anche la il governo quindi ha deciso seccamente di aumentare l'età pensionabili portandole di a 63 anni per gli uomini che fanno degli impieghi in ufficio a 58 anni per le donne che svolgono lavori simili ma aumentando di ben cinque anni da 50 55 anni l'età pensionabile per le operaie un bel colpo cinque anni di aumento di età pensionabile secche in una botta sola tutto questo dovuto al fatto che anche la sistema pensionistico non sta più leggendo soprattutto perché non nascono più giovani le proiezioni demografiche dicono che si scenderà probabilmente ben al di sotto del miliardo di abitanti entro 2100 e questo rende la società anche quella della società cinese più vecchia e quindi con maggior difficoltà nel reggere il peso delle pensioni la cina ha un problema demografico anche peggiore del nostro ed ha perfino più difficoltà ad affrontarlo grazie e vi invitiamo a visitare scenari economici e a leggere i nostri articoli buona giornata